e voi direte e ma cavoli e questo non è e sembra una tazzina di caffè ma non è caffè e acqua e acqua e mi sono sbagliato non dovevo fare il gargarismo buon dizionario e no e non è ora di buon dizionario questo è fantastico perché la cosa si ti forti e la cosa che mi sono viene in mente è che io voglio salutare tutti i miei amici e le mie amiche di facebook reali e virtuali virtuali e reali è forte sta cosa è veramente forte sta cosa e se un po vogliamo è questa camicia un po' è forte e anche voi siete forti e aspettate che sta arrivando un amico è un attimo è forte anche quello lì è amici telespettatori è allegria allora 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 giriamo la ruota e sei fortunato anche te non vuoi girare la ruota allegria allora non giri la ruota io me ne vado ciao era forte quello lì è forte veramente e allora io caldo allora io penso che comunque alla fine è giusto ringraziarvi perché io ringrazio perché sono abituato a ringraziare perché 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 voi mi seguite seguite i miei video e io vi ringrazio e spero che siano forti perché voi siete forti e allora saranno forti anche i miei video non so e magari qualche volta è forte perché qualche volta ci sarà qualche altra canzone un po' così un po' e non vorrei tanto dire non so e quindi un po' spiritose e allora io a questo punto io vi saluto e ci vediamo in prossimi video ci vediamo presto e mi raccomando e siete forti veramente e ciao e ciao ciao